Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'appuntamento della notte del Tg di Udinese TV. In apertura c'è la nuova geografia dell'Italia alla luce dell'ordinanza del Ministero della Salute che ha riconfigurato diverse regioni italiane. L'unica che rimane in zona rossa è l'Abruzzo come potete vedere dalla mappa. Invece ci sono notizie positive per quanto riguarda le altre regioni con naturalmente compreso anche il Friuli Venezia Giulia che passa in zona gialla assieme ad Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria. Le ordinanze entreranno in vigore dal 6 dicembre quindi dalla mezzanotte di domenica. Sono rinnovate poi le misure restrittive vigenti anche alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte che rimangono arancioni e per quanto riguarda invece Campania, Toscana, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad arancione. Queste decisioni però hanno scatenato le proteste dei vari governatori delle regioni italiane con la protesta che si è diffusa dalla serata per quanto riguarda l'ultimo weekend, quello del 19 e del 20 dicembre. Rischiamo di rivivere quello che è successo durante la notte tra il 7 e l'8 marzo, ha detto il presidente della Lombardia, Tilio Fontana. Finalmente è arrivata la conferma che tutti aspettavamo, da domenica torniamo gialli, ha detto invece il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, una notizia che ci fa piacere e non deve essere considerata come esenzione da ogni responsabilità. Stesso indirizzo quello di Zaia dal Veneto che però aggiunge a Natale siamo tutti più buoni e quindi spero dal governo un ravvedimento del provvedimento sullo stop di movimento tra i comuni delle date, nelle date del 25 e il 26 dicembre primo gennaio, ha detto Zaia. Del Friuli Venezia Giulia torneremo a parlare tra pochissimo ma nel frattempo oggi si è fatto anche il punto della situazione perché questa nuova mappa è stata permessa dall'abbassamento dell'indice RT, il cosiddetto indice di trasmissibilità del virus che è sceso per la gran parte delle regioni italiane come ha sottolineato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. È vero che c'è un'attenzione di tutti noi per le prossime festività però se mi consentite io vorrei concentrarmi sui prossimi giorni perché le festività sono tra 20 giorni noi oggi abbiamo ancora oltre 20.000 casi al giorno e abbiamo ancora delle settimane dove dobbiamo fare in modo che questi numeri decrescano. Dobbiamo fare in modo che questo RT in tutte, ripeto, in tutte le regioni scenda sotto uno e più scende meglio è. Dobbiamo fare in modo che questi numeri di nuovi casi giornalieri scendano e più scende è meglio è. Quindi questo è un primo elemento estremamente importante, è giusto proiettarci nel futuro, è giusto guardare al medio termine però è anche giusto non sottovalutare l'impegno odierno perché questo rappresenta il presupposto per poter ragionare. E a proposito dei numeri odierni, vediamo la situazione in Italia. Sono stati registrati altri 24.009 casi di contagio. Le vittime sono 814 nelle ultime 24 ore mentre i guariti o dimessi sono 25.500. Il numero dei tamponi effettuati è stato di 212.000 in flessione rispetto a ieri con un rapporto positivi tamponati che sale all'11,3%. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è sceso di 30 unità nonostante i 210 nuovi ingressi giornalieri scende anche il numero dei ricoverati con sintomi da 31.700 a 31.200. Il numero degli attualmente positivi è sceso di 2.200 unità mentre quello dei dimessi o guariti supera quello dei positivi di circa 110.000 persone. E per quanto riguarda invece l'altra allerta italiana, quella dal maltempo, dal nord-ovest iniziano le prime ripercussioni rispetto alle abbondanti nevicate che stanno interessando il nord Italia. Una forte nevicata si è registrata in Liguria, in particolar modo lungo la A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto che ha bloccato alcuni mezzi pesanti e le auto. La protezione civile ha invitato a procrastinare le partenze e comunque a non prendere l'autostrada. A Varese, un uomo di 53 anni, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un albero crollato sotto il peso della neve nel tardo pomeriggio di oggi a Gola Secca. Francesco Giovaniello, operaio di Vergiate, stava rientrando a casa a piedi dal lavoro quando la pianta ha ceduto travolgendolo. Sono diversi gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco, dei soccorritori del 118 e dei carabinieri. In Italia si apre domani un weekend caratterizzato da forte maltempo con neve copiosa sulle Alpi, oltre un metro di accumulo in alcune zone, piogge forti e temporali, condizioni sfavorevoli che riguarderanno soprattutto il centro nord. Domenica invece la perturbazione si sposterà sul sud Italia. Ma a proposito del Friuli Venezia Giulia in particolare, l'allerta della protezione civile è rossa a partire dalla mezzanotte. Scuole chiuse domani nell'area delle prealpi carniche, in tutta la Carnia, nel Tarvisiano, nelle valli del Torre e del Natisone e in tutta la provincia di Pordenone. Per la decisione della giunta regionale Fedriga, deciso anche il blocco del trasporto pubblico locale sia domani sia domenica nelle zone che potrebbero essere colpite dagli eventi meteorologici. Le decisioni sono state assunte oggi durante un vertice d'urgenza in protezione civile a Palmanova, stanziati anche già un milione e mezzo di euro per far fronte agli interventi di prima necessità da mettere in atto in caso di urgenze. La situazione, secondo le previsioni dell'Osmer, a partire dalla serata, vede un'intensificazione delle piogge, soprattutto sulle Alpi e sulle prealpi, che diventeranno intense o molto intense nella giornata di domani. Scirocco sulla costa con la possibilità di mareggiate. Domenica al quadro ancora incerto con le probabili piogge sciroccali sulla zona montana, poi localmente intense su pianura e costa. Il verificarsi di questi eventi può comportare l'innalzamento significativo dei corsi d'acqua, in particolare dell'ivenza. Possibili diffuse situazioni di crisi nella rete idrografica e di drenaggio urbano, mentre sulla costa sono previste problematiche legate al vento forte e alla qualta in corrispondenza dei picchi di marea e delle mareggiate. L'appello da Fedriga e da Riccardi è quello di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone nel corso sia della giornata di domani che di domenica. E come detto c'è stata la decisione di chiudere tutte le scuole in provincia di Pordenone, nella fascia pedemontana, abbiamo visto in Carnia, nel Tarvisiano, nelle valli del Torre e del Natisone. A proposito invece della situazione Covid-19 abbiamo visto dalla mappa italiana che il Friuli Venezia Giulia dalla mezzanotte di domenica torna in zona gialla. Vediamo che cosa cambierà. Contagi che rimangono stabili, decessi che continuano ad aumentare, reparti ospedalieri e terapie intensive sempre con percentuali di occupazione sopra la soglia di allerta. Eppure l'indice RT del Friuli Venezia Giulia, quello che monitora la trasmissibilità del virus in prospettiva, scende ancora a 0.92 rispetto all'1,9 della scorsa settimana. Così come è accaduto anche nella maggioranza delle altre regioni italiane e alla luce di ciò il Ministro della Salute Speranza ha comunicato al Governatore Massimiliano Fedriga che nella nuova ordinanza in vigore da domenica 6 dicembre il Friuli Venezia Giulia dopo tre settimane di arancio sarà classificato come zona gialla. In base al monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità il Ministero della Salute ha firmato infatti l'ordinanza che porta la Toscana, la Valle d'Aosta, la Campania e la provincia autonoma di Bolzano in zona arancione e poi l'Emilia Romagna, le Marche, la Puglia, l'Umbria e appunto il Friuli Venezia Giulia in zona gialla. In tutti i casi c'è stato un miglioramento rispetto all'area precedente. Tra le novità più rilevanti che scatteranno dunque da domenica, dalle 5 alle 18 riapertura per bar e ristoranti che poi potranno essere aperti per asporto fino alle ore 22. Non c'è inoltre più l'obbligo di autocertificazione per spostarsi da un comune all'altro dalle 5 alle 22. domani alle 11.30 è fissata una conferenza stampa dello stesso Fedriga con il suo vice Riccardi per un aggiornamento della situazione sull'emergenza Covid-19 in regione. Probabile che vengano annunciate misure ad hoc tramite ordinanza regionale per limitare le occasioni di maggior assembramento. Facile il reinserimento per esempio dell'obbligo di consumare nei locali pubblici solamente da seduti così come lo era precedentemente alla zona arancio. Inoltre è possibile che vengano ulteriormente annunciate restrizioni per evitare gli assembramenti all'interno dei negozi. E a proposito di queste ultime anticipazioni ce ne sono state altre nel corso della serata che domani naturalmente vi racconteremo live durante la diretta del nostro Tg alle 11.30 proprio per seguire la conferenza stampa di Fedriga e Riccardi. Queste ultime anticipazioni dicevamo interesseranno i divieti di consumazione nei ristoranti e nei bar in piedi. Ciò potrà avvenire dalle 10 alle 11 di mattina solo seduti. Metteremo un ingresso maggiormente scaglionato all'interno dei negozi ha detto ancora Fedriga. Inoltre raccomanderemo di non recarsi in abitazioni di persone non conviventi perché proprio all'interno delle abitazioni dove c'è maggior rilassatezza e maggior vicinanza c'è più rischio. In generale ha concluso Fedriga. Cerchiamo di abbassare i toni e di essere alleati per far fronte al virus. Virus che come ascoltavate in Friuli Venezia Giulia continua a mantenere numeri davvero preoccupanti. La nostra regione torna sì in zona gialla ma con il numero dei contagi che oggi ha superato quota mille ci sono stati altri 26 decessi. Ci racconta tutto Valentina Beazzi. L'arancione si è sbiadito e il Friuli Venezia Giulia sarà di nuovo giallo da domenica ma per i dati il peggio non è di certo passato. Anche oggi si registra uno dei numeri più alti di questa seconda ondata. 1.040 nuovi casi di contagio. Ancora alti anche i decessi. Sono 26 a cui si sommano altri 10 inseriti tardivamente a sistema. Dall'inizio della pandemia sono quasi mille i morti per covid nella nostra regione e il dato più preoccupante è il raffronto tra primavera e autunno. 350 i decessi nei tre mesi della prima ondata. Marzo, aprile e maggio. 620 quasi il doppio in soli due mesi dal 4 ottobre a oggi. Numeri che fanno spavento e che si accompagnano al continuo allarme di medici, operatori sanitari e ospedali. La pressione non si allenta e sono ancora 59 le terapie intensive e 632 i ricoverati in altri reparti. Senza contare che ci sono ancora 14.500 persone in isolamento domiciliare. Alla luce di questi numeri costantemente alti ci si chiede quanto abbia inciso nelle scelte del governo il calo dell'indice RT, passato nella settimana scorsa da 1,09 a 0,92. Un altro dato in calo, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, è la percentuale dei tamponi positivi al primo screening, quindi non quelli di controllo, passata da 34,3% al 27,7%, che in pratica vuol dire comunque quasi 1 su 3. Secondo il monitoraggio si registra anche un calo del 20% dei casi nell'ultima settimana rispetto alla precedente. Sono 4.934 i nuovi positivi dal 23 al 29 di novembre contro i precedenti 6.024. Fra i nuovi casi di oggi ci sono anche due migranti della Cavarzerani, che è stata quindi dichiarata zona rossa dal sindaco fino al 12 di dicembre. Nel frattempo la regione ha velocizzato l'iter per i tirocini dei nuovi os. Saranno 760 gli operatori che potranno presto cominciare a lavorare. Chi nel corso della serata è andato all'attacco della regione, anche alla luce di questa decisione di essere messi in zona gialla, è Paolo Ciani, ex assessore e vicepresidente della regione, attualmente imprenditore nel settore alimentare, che è in attesa di un posto in terapia intensiva per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa del Covid-19. Dopo 11 giorni di febbre, ha raccontato Ciani, mi ricoverano in ospedale a San Daniele. Ora aspettano un posto in terapia intensiva Udine per l'aggravarsi della respirazione. Ancora giunge, ma non c'erano posti a disposizione nelle terapie intensive. Sono stati smantellati 7 posti di emergenza a San Daniele e spenti 6 respiratori. Il personale viene spalmato a caso. Pare che la situazione sia esplosiva, ha aggiunto ancora Ciani. Chiedo al presidente della regione di smetterla di giocare sulle disgrazie dei cittadini. Non sa nemmeno ciò che accade sul territorio e continua a giocare alla contrapposizione politica. La finisca e si occupi di sanità, ha concluso Ciani. All'attaccare il sindaco di Udine invece stavolta sia il sindacato, l'intersindacale dei medici, sia il consigliere comunale Bertossi. Perché? Perché Fontanini ha detto a loro non è ancora intervenuto, non ha fatto una presa di posizione forte rispetto alla situazione del pronto soccorso cittadino. La situazione è estremamente critica. Quell'esempio di lunedì sera all'ospedale di Udine, del pronto soccorso è l'epilogo di una serie di fatti che noi conoscevamo e di una realtà che sta scivolando verso una situazione di non controllo. L'episodio di lunedì è, le ripeto, un episodio, però rispecchia la difficoltà di molti reparti, non solo del pronto soccorso, ma anche della medicina d'urgenza, dei reparti di medicina. Nella lettera di ieri abbiamo voluto estendere la considerazione anche all'ospedale di Palmanova, dove i posti per pazienti Covid hanno raggiunto ormai il centinaio e questo desta una estrema preoccupazione, estrema preoccupazione proprio per la carenza di spazi di strutture a disposizione. Io non ho ancora visto una reazione da parte del sindaco di Udine e dei sindaci del circondario che sono le massime autorità sanitarie ciascuno nel proprio comune e che di fronte a questa situazione, che non voglio definirla esplosiva, ma è una situazione estremamente critica, non hanno ancora preso una posizione. Noi riteniamo che sia il momento di agire per correggere questi problemi. Noi abbiamo una situazione all'ospedale di Udine, soprattutto al pronto soccorso, del tutto inaspettata e inusuale per la nostra città. Code di ambulanze, attese per ore e ore, posti letto tutti occupati, ammalati di Covid che devono essere spostati a Trieste. Una situazione drammatica che si avvicina molto alle scene che abbiamo visto a Napoli o in altre città del sud Italia. Ecco, con tutta questa difficoltà che c'è, i medici, gli infermieri che lanciano appelli e gridi d'allarme, il nostro sindaco si disinteressa totalmente dell'ospedale, della salute dei suoi cittadini, dei disagi che stanno subendo i suoi cittadini, come niente fosse. Poi leggiamo sul giornale invece che si dedica all'inaugurazione di quella che è stata soprannominata una lapide in mosaico, con scritto Capital dal Friul, nella nuova rotonda in fondo a Viale Venezia che serve sostanzialmente solo a un supermercato. Ecco, sono cose veramente incomprensibili. Io sono non arrabbiato, sono indignato. In città si continua a soffrire anche sul fronte del commercio. L'apertura dei negozi fino alle 21 gioverà ben poco, almeno in una città come quella di Udine. A dirlo Gianni Croato, presidente dell'Associazione Amici di Via Mercato Vecchio, che auspica il ritorno del Friuli in zona gialla, così come è stato decretato oggi, perché dice da quando siamo arancioni qua in centro non si batte più uno scontrino. Partiamo subito, presidente, dal prolungamento dell'orario di apertura. Potrebbe aiutare il commercio in questo periodo natalizio in una realtà come quella di Udine? Direi che l'ampliamento dell'orario alle 21 potrebbe aiutare, ma non penso proprio che aiuti molto, perché comunque la gente del Friulani sono abbastanza abitudinari e quindi difficilmente dopo vengono a acquistare qualcosa. L'orario è troppo breve, se si dovesse allungare si potrebbe allungare fino alle 22, ma penso che in questo periodo invernale, anche così freddo diventa molto difficile. Se non cambia la colorazione della regione con il giallo, sicuramente avremo una difficoltà notevole. Difficoltà notevoli? Giustamente lei mi diceva ha fatto un giro proprio qui tra i commercianti di Via Mercato Vecchio e purtroppo negli ultimi periodi non si batte uno scontrino. Questo è il grande problema. Sì, questo è una verità, ma non solo in Via Mercato Vecchio, ma in tutto il centro storico e penso in quasi tutti i negozi commerciali, perché dopo si lavorava abbastanza fino a quando i bar erano aperti fino alle 6, perché comunque portavano gente, perché una persona non viene in centro o poche solo per comprare, vengono per un momento di amicizia e già che ci sono vengono a fare le spese. Quando hanno chiuso i bar totalmente è finito il lavoro, non si batte, come diceva proprio lei, neanche uno scontrino oppure molto pochi che non bastano a coprire tutte le spese che abbiamo. Noi viviamo sicuramente non solo con Udine, ma anche con la periferia di Udine e oggi come oggi non ci si può spostare e quindi la gente non si muove per prendere un qualcosa, per rendere la multa, come diceva lei, e quindi aspetteranno, aspetteranno sempre di tornare nel giallo e speriamo che avvenga, perché altrimenti per il commercio sarà veramente un momento difficile e non so proprio cosa succederà. Apriamo la pagina di Cronaca, oggi si è festeggiata in tutta Italia Santa Barbara la patrona dei Vigili del Fuoco e anche a Udine in comando provinciale c'è stato un momento per ricordare lo sforzo dei Vigili del Fuoco, naturalmente in forma ridotta per le restrizioni del Covid, ma c'è stato anche il punto sui risultati di questo 2020. Vediamo. Anche quest'anno a Udine si è festeggiata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Nonostante la pandemia la cerimonia si è tenuta ugualmente in forma ristretta, prima la messa con l'arcivescovo Mazzoccato, poi una deposizione della corona dall'oro per i caduti in servizio. Come ogni anno sono state concesse delle onorificenze per il personale, che però è stato solo nominato per nome ma non premiato fisicamente. È stata anche l'occasione per fare il punto sulle attività di quest'anno. La provincia di Udine vede impegnati 269 Vigili del Fuoco coordinati dal comandante provinciale Alberto Maiolo. Nel 2020 anche gli interventi di soccorso, che nel complesso sono stati più di 7.500, hanno risentito del lockdown e sono drasticamente aumentati nel terzo trimestre dell'anno. Rispetto all'anno precedente sono stati più numerosi gli interventi generici, i salvataggi, gli allagamenti e i dissesti statici. Questi ultimi cresciuti di addirittura il 56 al 59%. Diminuiti invece incendi e incidenti stradali, in particolare questi ultimi di bene il 20%. Per quel che riguarda la distribuzione del lavoro, quasi la metà degli interventi è stata realizzata dalla sede di Udine, con il 45% del totale degli interventi del comando, seguita da Cervignano, Cividale, Gemona e poi Tolmezzo. Tra i distaccamenti volontari molto attivi il personale di Codroipo, con 412 interventi, e quello di Lignano, con 255. Nel pomeriggio c'è stato un ulteriore intervento dei pompieri a San Giorgio di Nogaro, in prossimità della zona industriale Ausacorno. Un camion a seguito di uno scontro con un furgone ha perso del carburante, creando problemi di sicurezza al transito degli altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Cervignano, che hanno provveduto al lavoro di bonifica dell'asfalto. Il camion è stato bloccato, l'autista, che non si era accorto di nulla, ha provveduto a ricercare la fonte della perdita, controllando il serbatoio, mentre un contenitore è stato posto sotto il mezzo per recuperare il carburante. Gli altri fatti di giornata riassunti nelle nostre Flash News. Stavano bevendo all'interno del bar, nonostante le misure anti-Covid prevedano la consumazione solo per asporto. Un bar del centro di Udine, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, è stato chiuso per cinque giorni. I carabinieri, infatti, dopo un controllo, hanno trovato cinque persone che stavano consumando nei locali interni, per il titolare anche sanzione dal punto di vista amministrativo. La questura aveva già chiuso il bar per cinque giorni, situato a Cordenons, per la mancanza di rispetto delle norme anti-Covid. Ma dopo i controlli scaturiti da quell'intervento, la polizia ha riscontrato che cinque persone all'interno erano gravate da precedenti specifici. Vista anche la completa ostilità nei confronti delle forze dell'ordine, il questore ha deciso di chiudere il bar per altri cinque giorni e di denunciare la titolare. Arrestato un 36enne georgiano per furto, l'uomo è stato sorpreso dai carabinieri di Martignacco all'uscita di un negozio di calzature con scarpe e oggetti per un valore di 230 euro. Arrestato si è scoperto poi che era un pluri pregiudicato, in Italia senza fissa dimora, irregolare, gli era stato vietato il ritorno in tutti i comuni della provincia di Udine ed era anche stato espulso. Un ventenne di Monfalcone la notte scorsa si è presentato ubriaco nella zona di Val Maura e ha pensato bene di attaccarsi ai campanelli degli sconosciuti. Svegliati nella notte i residenti hanno avvisato la polizia che ha sanzionato le giovane per ubriachezza e per aver violato il coprifuoco. Aveva derubato alcuni turisti a Lignano, rubato e rapinato in due esercizi udinesi, oltre che in altri luoghi in Italia e in Europa. Un marocchino di 28 anni è stato individuato a bordo di un treno in Svezia diretto in Germania, è stato catturato deve scontare tre anni e quattro mesi di reclusione. Si terranno lunedì 7 dicembre prossimo alle ore 15 le esequie di Aurelia Laurenti, la donna uccisa dal compagno nella giornata della violenza contro le donne. La decisione è stata annunciata oggi con la partecipazione dei gonfaloni, dei comuni coinvolti dalla tragedia, quelli di San Quirino e di Roveredo in piano, ad annunciarlo i sindaci Gianni Giukovac e Paolo Nadal. Nella giornata di domani invece alle 19 in Duomo a Roveredo ci sarà una veglia di preghiera in suffragio. Entrambi i sindaci hanno proclamato il lutto cittadino in occasione dell'esequie della giovane mamma. Veniamo alla pagina sportiva ora con l'Udinese che si appresta ad affrontare l'Atalanta domenica nella decima giornata di Serie A. Andiamo a fare il punto della situazione con Alessandro Surza. Giornata di lavoro per l'Udinese che continua con le esercitazioni tecnico-tattiche in vista del match di domenica quando alla Dacia Arena arriverà l'Atalanta. Allenamento mattutino per i bianconeri con la squadra divisa per ruoli per focalizzarsi sui tatticismi da mettere in pratica contro la Dea. Sì perché quella di dopodomani sarà una gara importante anche per capire a che punto è la crescita delle zebrette che devono dimostrare che la vittoria con la Lazio non è stata soltanto frutto del caso. Si cerca quindi quella continuità che è stata trovata negli ultimi tre incontri di campionato e che ha portato in dote sette punti. De Paul e Pereira hanno lavorato a parte svolgendo esercizi di scarico in palestra ma nessun allarme si trattava di un lavoro programmato con lo staff bianconero e quindi domenica saranno assolutamente a disposizione come saranno a disposizione anche tutti gli altri bianconeri protagonisti della gara dell'Olimpico tutti tranne Tolgai Erslan che come noto sarà squalificato e il favorito per sostituirlo è Wallace che però non ha probabilmente ancora 90 minuti nelle gambe ci si aspetta quindi una staffetta gara in corso con Mato Iaialo. Per quanto riguarda il modulo non ci sono dubbi che sarà confermato la 3-5-2 con gli stessi interpreti tranne appunto il turco tedesco scalpita anche Gerard Eurofeo ma è molto probabile che venga confermato dall'inizio Forestieri dopo la splendida prova di domenica scorsa con lo spagnolo pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Per quanto riguarda l'Atalanta in vista del match di domenica Gasperini recupera Gollini in porta ballottaggio tra Muriel e Zapata in attacco. Un flash che riguarda anche il calcio femminile perché il Tavagnacco si ferma di nuovo purtroppo c'è stato un nuovo caso di positività al Covid, la notizia è arrivata ieri e la società si è accordata con la Roma Calcio Femminile per rinviare la gara in programma nella capitale domenica 6 dicembre. Tutto il gruppo poi sarà sottoposto a un nuovo giro di tamponi. Andiamo ora a dare un'occhiata ad alcune delle prime pagine dei quotidiani che troverete domani in edicola. Il giornale di Alessandro Sallusti titola Mattarella vede le urne. Le urne, l'ultimatum, il Colle avvisa Conte e la maggioranza se non passa la riforma del MES andate a casa. L'ipotesi di un governo di transizione poi subito al voto. Paesini in rivolte e incubo, fuga al sud, caos sul Natale. Andiamo con la prima pagina di Libero invece che titola italiani chiusi in casa, clandestini a spasso. L'esecutivo blocca gli incontri tra parenti ma riapre i porti. Ormai chi arriva col barcone ha più diritti di chi versa le tasse, scrive il quotidiano di Vittorio Feltri. La verità invece, mentono su tutto, prigionieri presi in giro, una deriva pericolosa, Conte con l'editoriale di Belpietro, sui dieci mesi di balle sul contrasto al virus, Natale, scuola, soldi e lavoro. Queste alcune delle prime pagine che troverete domani in edicola, nella nostra rassegna stampa invece dalle 7, tutte le altre con gli approfondimenti anche sul nostro territorio, appuntamento al quale vi rimandiamo dalle ore 7, naturalmente in diretta. Grazie per averci seguito, vi lasciamo con Cadeoggi a cura di Guido Gomirato. Buonanotte a tutti! Il 4 dicembre 1983 si gioca al Friuli davanti a 43.000 persone, la sfida tra i bianconeri di Enzo Ferrari e il Torino finisce 0-0 dopo un match molto intenso, caratterizzato da capovolgimenti di fronte pressoché continui, ma è un match che viene ricordato per il grave incidente di gioco capitato al minuto 19 del primo tempo ad Attilio Tesseri, il terzino sinistro fluidificante della formazione bianconera. Tesser, sino a quel momento forse il migliore dei bianconeri, subisce un fallo da tergo da Pato Hernandez, rimane a terra, si capisce subito che l'infortunio è serio, viene trasportato in barella negli spogliatoi, poi due giorni dopo gli verrà riscontrata la lesione del crociato anteriore, inizia purtroppo per Tesser un lungo calvario, subisce due interventi chirurgici, il primo a Pavia, il secondo in Francia a Lione e rimane anche per parecchio tempo lontano dai campi di gioco, quando rientrerà non sarà più lui, il grave infortunio subito contro il Granata lo condizionerà non poco. Tesser, classe 1958, attuale allenatore del Pordenone, è cresciuto nel Monte Beluna, poi è passato al Treviso, quindi nel 1978 è approdato al Napoli e nell'80 all'Udinese, con cui ha disputato 100 gare in campionato. Dopo l'avventura bianconera ha giocato con il Perugia, con il Catania, per poi chiudere la carriera nel Trento, iniziando quella di allenatore, che lo ha portato a sedere sulle panchine di numerose squadre italiane. Grazie a tutti.